Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su GDR Addicted con questo nuovo video dedicato ancora a Slam Dunk Mobile Game. Oggi non vi farò né una Play Review né un video tutorial su come affrontare certi tipi di match, ma vediamo un po' come riscattare i Huawei App Gallery Code, quelli che vi danno i Huawei Points che potete sfruttare come sconti per acquistare pacchetti con acquisti reali in gioco. Ok? Ve la faccio questa guida perché molti della nostra community stanno avendo problemi a capire come riscattare i codici che io do in live su Twitch ogni settimana. Allora ragazzi, niente di più semplice. Come vi ho spiegato, seguite la guida per installare il gioco tramite Huawei App Gallery. Ve la metto di qua, anzi, di qua sopra, di là, tra le schede. E guardate come installare Huawei App Gallery lì. Vi metto comunque il riassunto anche sotto qui la descrizione del video così non avete problemi, ma mi raccomando per riscattare i codici che io vi do durante le live sul sito Viola, dovete aver impostato su Utente, qui dove c'è il vostro numero di telefono, insomma la vostra ID, dovete andare su Impostazioni, Paese, Area Geografica, vedete, dovete impostare Germania, perché l'unico modo per riscattarli è tramite la nazione Germania. Questo perché il provider che ci dà i codici ha la sede in Germania, quindi l'unico modo per riscattare i codici è settare il Huawei App Gallery proprio con la nazione Germania. Mi raccomando perché se non fate questo i codici non vi funzionano, ok? Molto molto importante. Impostazioni, Paese, Area Geografica, Germania. Germania, mi raccomando, sia qui che sulla vostra ID. Quindi se lo impostate nel momento in cui lo scaricate il Paese della Area Geografica qui, dopo aver fatto l'account, di solito in automatico vi cambia anche quello dell'ID, però voi verificatelo uguale perché potrebbe essere che ci sia una discrepanza in questa circostanza, ok? Come riscattare il codice? Allora, andiamo sulla nostra area personale, dove c'è la nostra schermata da utente, e vedete qua c'è Huawei Points 00, io ce l'ho, ok? Cliccate su Huawei Points, poi vi viene fuori questa schermata, vi dice il vostro saldo, fate riscatta, qui in questa schermata qua dovete fare inserisci manualmente, qui sopra cliccate inserisci il codice, e inserite il codice che io vi do in live, che è una sequenza numerica. Una volta fatto questo, fate ok, ricarica e vi dovrebbe dare, dopo riaprendo questa schermata, il saldo sui Huawei Points, va bene? Questo è il modo corretto per riscattare i punti in gioco. Poi, una volta in game cosa succede? Una volta in game voi andate ad acquistare il pacchetto, vi verrà fuori tra i vari metodi di pagamento, anche quello tramite Huawei App Point. Mi raccomando, però per usufruire correttamente il pacchetto, dovete scaricare il gioco tramite Huawei App Gallery, se no questa possibilità non ve la fa vedere, e vi farà shoppare solo tramite la vostra carta di credito, o carta prepagata. Ok? Molto semplice. Ecco qua, una volta installato il gioco tramite Huawei App Gallery, lo apriamo, vi faccio vedere come usare i Huawei App Points per acquistare i pacchetti. Ok? Andiamo su Shop, vediamo un po' se c'è qualcosina, eccolo qua. Prendiamo lo shop questo qui da 1,09€, lo conferma, vi si aprirà una schermata, eccolo che qui ritorna verticale, vedete dove scegliere i metodi di pagamenti. Voi fate altri metodi di pagamento, e vedete è venuto fuori Huawei Points. Se voi avete dei Huawei Points che potete utilizzare, lo cliccate, e vi scalerà l'importo dei Huawei App Points, dalla somma che dovete pagare. Ok? Niente di più semplice. Molto utile perché vi date gli sconti sui pacchetti che potete acquistare, e se avete accumulati diversi Huawei App Points, riuscite a avere un grande sconto, in più non vi scordate che tramite il live del nostro canale, vi forniremo dei codici che l'ultima volta sono dati da 1€ fino a 5€, quindi vi permettono anche di avere uno sconto abbastanza interessante, da poter utilizzare in gioco per acquistare risorse. Ok? Bene ragazzi, questo video finisce qui, io spero che vi sia stato utile, perché molti di voi ne richiedevano a gran voce l'uscita, visto che non capivano come poter sfruttare questi punti, questi codici che io vi fornisco di tanto in tanto nelle live, vi invito appunto a seguirci nel live, proprio per avere la possibilità di vincere questi codici, e riscattare poi i premi dalla Huawei App Gallery. Ok? Io vi saluto e vi ringrazio, vi invito come in solito a mettere mi piace, a condividere il video, iscrivervi al canale, e seguirci sulle pagine social, e soprattutto sul sito Viola, dove andiamo in live ogni settimana con VemDug. Io vi saluto e vi ringrazio, un ciao da Spike.